Musica Avviso di reclutamento per medici, la CisleFP chiede soluzioni definitive e assicura Vigileremo contro la chiusura dell'ospedale di Polla 249esimo anniversario della Guardia di Finanza Salerno Le celebrazioni, il generale Oriol De Luca presenta i dati delle operazioni Riforma delle province, il presidente Franco Alfieri ieri a Roma per discuterne con Lupi Padula riaperto al culto, l'eremo di San Michele alle grottelle Dopo i lavori di recupero sabato scorso e ritorno della statua a luogo sacro Divertimento, cultura, buon cibo inizia il 3 luglio, la ricca estate 2023 a stanza Eccoci bentrovati al nostro telegiornale Apriamo con la sanità La CisleFP Vallo di Viano interviene in merito all'avviso pubblicato nei giorni scorsi dall'Asl di Salerno Per il reclutamento di medici specialisti con partita IVA da reclutare in questo periodo estivo Un provvedimento tardivo e inutile per i referenti del sindacato valdianese Che suggeriscono soluzioni al problema del personale negli ospedali di periferia Vediamo i dettagli Troppo tardi e non basta I referenti della Cisle Vallo di Diano commentano così l'avviso pubblico dell'Asl di Salerno Nei giorni scorsi per il reclutamento di medici specialisti con partita IVA Da impiegare a tempo determinato nei reparti degli ospedali salernitani Dove si registrano le maggiori carenze di personale sanitario Un provvedimento che nonostante fosse stato suggerito inizialmente proprio dalle sigle sindacali Viene ora criticato in quanto arriva in notevole ritardo E sembra, a parere dei referenti Cisle o Funzione Pubblica Essere un provvedimento di facciata che non porterà grandi risultati In una nota firma dei referenti della Cisle FP Vallo di Diano Viene ricordato come, già all'incontro svoltosi lo scorso aprile E promosso dalla stessa Cisle con i sindaci del territorio valdianese Erano state evidenziate le difficoltà ataviche in merito proprio alla carenza di personale presso l'ospedale di Polla Bisognava agire anche in fretta, sottolineano dal sindacato E' chiaro che questo provvedimento di reclutamento di medici è una soluzione tampone Che non risolve le ataviche criticità di carenza del personale medico E a nostro avviso non solo è di facciata ma non porterà a grandi risultati Nella nota stampa vengono dunque indicate le possibili soluzioni Che potrebbero essere adottate sia a livello regionale che nazionale Al fine di superare le difficoltà croniche degli ospedali nell'individuale sufficiente personale Per la Cisle potrebbe essere utile innanzitutto adottare sistemi di incentivazione economica Per chi sceglie presidi ospedalieri di periferia Insieme all'ampliamento del numero di iscritti alle facoltà di medicina e specialistica Sul fronte sanitario, continuano dalla Cisle FP Vallo di Diano Il tema della carenza di personale sanitario ormai è un'emergenza Che si è fatta sempre più evidente dopo la pandemia A seguito del pensionamento di molti medici non rimpiazzati da nuove leve E crea, soprattutto nei presidi di periferia, gravi difficoltà nell'erogare assistenza sanitaria Quali componenti e rappresentanti sindacali Cisle FP del presidio ospedaliero di Polla Vigileremo affinché il nostro territorio non venga escluso da eventuali assegnazioni di personale E come già rimarcato, concludono A fine di scongiurare ogni ipotesi di chiusura della struttura E garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione interessata Attiveremo quindi ogni utile azione di protesta La Guardia di Finanza cede ancora più presente a contrasto delle frodi In questi anni in cui i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza Sono fondamentali per lo sviluppo della nazione a patto che vengano utilizzati nel rispetto della legge Questa mattina il generale della Guardia di Finanza di Salerno, Oriol De Luca Nella cerimonia per i 249 anni delle fiamme gialle Ha presentato i numeri delle operazioni svolte in contrasto alle frodi Vediamo Non riesce a trattenere la commozione il generale della Guardia di Finanza Alla guida del comando provinciale di Salerno, Oriol De Luca Quando nel discorso che ha tenuto questa mattina nella caserma giudice in via Duomo a Salerno Per celebrare il 249esimo anniversario della fondazione del corpo Ha tracciato un bilancio operativo delle operazioni effettuate Non numeri ma fatti e soprattutto tanta voglia di condividere con le sue donne e i suoi uomini Gli importanti risultati raggiunti Come l'impegno a tutto campo contro la criminalità In particolare durante il suo discorso il generale Oriol De Luca ha ricordato Quanto sia stato fondamentale il contributo che la Guardia di Finanza ha reso Per assicurare un concreto ed effettivo presidio di legalità Per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza In totale sono stati oltre 16.000 gli interventi effettuati Mentre la lotta all'evasione fiscale con 1.120 interventi Ha consentito di recuperare 490 milioni di euro Tra le altre azioni anche la scoperta di una serie di frodi Ai danni dell'Unione Europea per un ammontare di 10 milioni di euro Ancora una volta la Guardia di Finanza c'è È presente a tutela delle imprese sane, dei cittadini onesti Ancora una volta noi faremo in modo di mettere tutto l'impegno possibile Per affrontare questa nuova sfida del futuro Generale che cos'è che la emoziona sempre durante questi momenti? Beh, volete farmi emozionare ancora? Ma sicuramente queste, le mie fiamme gialle E' quello Nec recisa recedit Perché ci possono tagliare ma noi ci siamo sempre Ci possono spezzare ma noi ci siamo sempre Per tutti, per la collettività, al servizio dei cittadini E questo mi emoziona Così come mi emoziona il mio personale Vedere che riesco a coinvolgerli Che riesco con Non con autorità Ma con autorevolezza A coinvolgerli e a renderli partecipe Di quella che è la mission della Guardia di Finanza Tutti noi abbiamo la stessa visione Per il futuro e saremo in grado di affrontare Ogni nuova sfida Oggi la seconda prova degli esami di maturità I maturandi sono stati impegnati in prove differenti A seconda degli istituti Seneca al Classico Teorema di Rolla allo scientifico Vediamo gli altri dettagli Dopo aver rotto il ghiaccio con la prima prova Il compito di italiano Nella giornata di ieri Gli studenti impegnati negli esami di maturità 2023 Oggi di nuovo tra i banchi Per la seconda prova in programma I maturandi sono stati impegnati in prove differenti A seconda dell'istituto Al liceo Classico Per la versione di latino La traccia scelta è un brano di Lucio Anneoseneca Chi è saggio non segue il volgo Tratto da lettere morali all'ucillo Al liceo scientifico E due problemi di matematica Riguardano lo studio di una funzione Gli otto quesiti Sull'analisi matematica L'applicazione del teorema di Rolla Lo studio degli zeri in una funzione Uno sviluppo in serie di Taylor Ma anche geometria analitica E calcolo delle probabilità Per scienze umane La seconda prova è su un brano Tratto dall'opera Il metodo Etica di Edgar Moran E su un estratto dagli scritti civili Di Vittorio Bachelet Al liceo linguistico Per la prova d'inglese La traccia si struttura in due parti Il primo brano è tratto dal romanzo Elisabeth Finch di Julian Barnes Mentre il secondo brano è intitolato Behind Forgetful Isn't Stupid È un estratto di un articolo scientifico Per gli studi tecnici di informatica E telecomunicazioni La traccia della seconda prova di informatica Riguarda lo sviluppo di una piattaforma web Finalizzata a migliorare l'apprendimento Delle varie materie Attraverso gli educational games Economia aziendale Per gli studi tecnici del settore economico Indirizzo, amministrazione, finanze e marketing Progettazione, costruzione e impianti Per l'indirizzo, costruzione, ambiente e territorio Terminati gli iscritti Inizieranno ora i colloqui In base al calendario deciso Dai singoli istituti L'obiettivo è accertare il conseguimento Del profilo educativo, culturale e professionale Dei ragazzi Nel corso del colloquio Esporranno anche le esperienze svolte Nell'ambito dei PCTO E le competenze acquisite Nell'ambito dell'educazione civica La cronaca viene investita da un'auto Mentre va al lavoro in bicicletta E chi la investe fugge Senza prestarle soccorso È accaduto a Sapri All'altezza di Largo San Francesco Nel pomeriggio di ieri Ad una 58enne del posto Che cadendo Ha battuto violentemente la testa Per lei Otto punti di sutura Si trova ora ricoverata Presso l'ospedale Dove è stata portata Dopo essere stata soccorsa Ad alcuni passanti Per ricostruire L'esatta dinamica dell'incidente E risalire all'identità Di chi guidava E al lavoro La municipale di Sapri Intanto i vigili Stanno ascoltando Le testimonianze Dei presenti E rivedendo le immagini Delle telecamere Di videosorveglianza Dei locali Sul lungomare cittadino Andiamo avanti Con la cronaca Stamattina I carabinieri del NAS E il personale dell'ASL Hanno controllato Diversi stand Del mercato Ortofrutticolo Di Pagani Sottoponendo A sequestro amministrativo Circa 3,2 tonnellate Di prodotti Risultati Non conformi Alla normativa Vigente In materia Di tracciabilità Alimentare Contestando 6 sanzioni Amministrative Per un importo Complessivo Pari a 9.000 euro Sono state Anche erogate 3 diffide Per la risoluzione Delle carenze Igenico-sanitarie A bagno titolo Rilevate Ed effettuati Campionamenti Per la ricerca Di eventuali Residui Di prodotti Fitosanitari Allo scopo Di garantire La sicurezza alimentare Assicurare Un elevato livello Di protezione Del consumatore Durante i controlli Dell'area mercatale È stato anche Deferito Un sorvegliato speciale Con obbligo Di soggiorno Che ha violato La prescrizione Di permanere Di permanere Nella propria Abitazione Durante le ore Notturne Cambiamo argomento Ieri a Roma C'è stata L'Assemblea Dei Presidenti Delle Provincie Italiane Convocata Dall'UPI Per fare il punto Sulla proposta Di riforme Sulle prossime Fasi di lavoro C'era il presidente Della provincia Di Salerno Nonché presidente Dall'UPI Campania Franco Alfieri Vediamo Ieri a Roma C'è stata L'Assemblea Dei Presidenti Delle Provincie Italiane Convocata Dall'UPI Per fare il punto Sulla proposta Di riforma E sulle prossime Fasi di lavoro C'era il presidente Della provincia Di Salerno Nonché presidente Dall'UPI Campania Franco Alfieri Abbiamo parlato Ha commentato Del disegno Di legge Pronto per la discussione In Commissione Affari Costituzionali Del Senato Che ridisegna La disciplina In materia di funzioni Fondamentali Degli organi di governo E in particolare Il sistema elettorale Delle province Seguiremo con interesse Ha assicurato Il presidente Alfieri La discussione E daremo il nostro contributo Mettendo al primo posto Il bene comune All'hotel forum Dei fori imperiali Dove si è svolta L'Assemblea Il presidente Dell'UPI Nazionale Michele De Pascale Ha illustrato La proposta di legge In discussione Al Senato E' urgente Ha detto Una legge Che permetta Alle province Di chiudere La stagione Della legge del Rio Il DL In discussione Al Senato Va in questa direzione Urge qualche modifica Per renderlo più funzionale E risorse Per accompagnare Il percorso Sono necessari 450 milioni Da inserire Nella prossima legge Di bilancio E non nel 2031 Ha sottolineato Per finanziare Le funzioni E accompagnare La riforma La legge del Rio Ha svuotato Le province Servono nuove Professionalità Per costruire Una macchina Amministrativa Efficiente E moderna La proposta Ha spiegato Conferma Tutte le funzioni Fondamentali Già delle province E ne riconosce Di ulteriori Dal punto di vista Elettorale Il testo Prevede il ritorno All'elezione diretta A soffraggio universale Introducendo L'aggiunta E ampliando I consigli Nella fascia Oltre un milione Di abitanti Rientrano Solo tre province Salerno Oltre a Bergamo E Brescia E si prevedono Trenta consiglieri E otto assessori Tra i 500 mila E un milione Di abitanti Ci sono 17 province Con in futuro 24 consiglieri E 6 assessori E le 56 province Sotto i 50 mila Abitanti Avranno 20 consiglieri E 4 assessori Questa sera Alle ore 18 A San Giovanni Appiro In località Campo La Scala L'incontro Sul tema La capra cilentana E la podolica Patrimoni Del Mediterraneo Manifestazione Voluta Per valorizzare E promuovere Queste straordinarie razze E il loro forte legame Con il territorio L'iniziativa Promossa dall'associazione Allevatori Della Campania E del Molise In collaborazione Con il comune Di San Giovanni Appiro La proloco L'assessorato All'agricoltura Della regione Campania Ad aprire i lavori Il direttore Dell'associazione Augusto Calbi Con i saluti Del sindaco Di San Giovanni Appiro Ferdinando Palazzo E del consigliere Provinciale Delegato al turismo Pasquale Sorrentino Con interventi Anche di esponenti Delle istituzioni Locali e regionali A concludere I lavori Il presidente Dell'associazione Davide Minicozzi Un appuntamento Arricchito Da numerose Iniziative Di carattere Folcloristico Curate dalla proloco Di San Giovanni Appiro Come la quadriglia San Giovannese Spettacoli Spettacoli musicali Con i suonatori Di organetto Stand gastronomici Per la degustazione Di prodotti tipici locali Tra i quali Il caciocavallo Podolico Formaggi caprini E carne Di vitello Podolico Bene Noi ci fermiamo Per qualche minuto Di pubblicità Rieccoci di nuovo In studio Ben ritrovati Andiamo a Padula Nello scorso fine settimana La comunità Ha vissuto Un momento importante Con la riapertura Al culto Dell'antico eremo Di San Michele Alle grottelle Dove è stata riportata La statua Del santo patrono Dopo i lavori Di restauro Effettuati Grazie al finanziamento Ottenuto dalla regione Campania Su impegno Dell'allora assessore Al turismo Corrado Matera Uno dei più antichi Luoghi di culto Del Vallo di Diano Domenica scorsa 18 giugno È tornato a rivivere In tutta la sua bellezza E la sua straordinarietà Che racconta anche Il lungo percorso secolare Del Vallo di Diano Da tutelare E valorizzare Nel fine settimana Scorso La comunità di Padula Ha riportato La statua Di San Michele Alle grottelle Presso l'eremo Lasciato tre anni fa Per l'inizio Dei lavori Di restauro Dell'antico luogo sacro Reso possibile Grazie all'impegno E al finanziamento Ottenuto Dalla loro amministrazione Comunale di Padula Guidata dal sindaco Imparato Con l'impegno E l'interesse Del consigliere regionale Corrado Matera Quando ricopriva Il ruolo di assessore Regionale al turismo Un impegno Ed un interesse Che ha consentito Di restituire Non solo Alla comunità di Padula Ma tutto il Vallo di Diano Un pezzo importantissimo Della sua storia Un fine settimana Di feste Di celebrazioni Per i padulesi In onore Del santo patrono Con la processione Che ha riportato La piccola statua Di San Michele Presso l'eremo Dove è sempre stata E lasciato solo Per consentire I lavori di restauro Del luogo Che hanno riportato Alla luce E all'originale Splendore Antichi e freschi Un cammino Di storia e cultura Per i tanti partecipanti Che sabato scorso Partiti dalla chiesa Madre di Padula Con la statua Del santo protettore Hanno raggiunto L'antico eremo Attraversando Zone suggestive Storiche di Padula Come l'antica Cosilinum Domenica 18 Il vescovo padre Antonio De Luca Ha raggiunto l'eremo Per la celebrazione Della Santa Messa A cui ha preso parte Anche il consigliere Regionale Corrado Matera L'eremo di San Michele Alle grottelle a Padula Ha commentato Matera È un'oasi spirituale Un luogo di storia Cultura Arte E religione Riconsegnato Alla comunità Per me è stata una grande emozione Vedere il restauro Degli affreschi Ed è una grande soddisfazione Aver finanziato Il recupero Del santuario di San Michele Alle grottelle Durante il mio assessorato Al turismo Della regione Campania L'estate sanzese Ha già iniziato A scaldare i motori C'è un calendario estivo Ricco di eventi Organizzato dal comune E dalla Proloquo Incontri, letture, musica Buon cibo Si parte il 3 luglio L'estate sanzese Ha già iniziato A scaldare i motori C'è un calendario estivo Ricco di eventi Organizzato dal comune E dalla Proloquo Incontri, letture, musica E buon cibo locale Luglio e agosto Due mesi con tante Proposte diverse Per vivere il borgo E i suoi spazi Si parte il 3 luglio Dalla villa comunale Con lo spettacolo La ballata di Pisacane Mentre l'otto In piazza Plebiscito Letture e riflessioni Con libri al borgo Il 21, 22 e 23 Si torna nella villa comunale Per il Cervati Beer Fest Mentre il 27, 28 e 29 In piazza Cavour Per frienno, mangenno, cantenno Il 30 Ancora nella villa comunale Per la notte rosa Con la consulta delle donne E poi il 31 luglio E il 1 agosto In piazza 24 maggio Ci sarà la festa Della lavanda Si prosegue Con un mese di agosto Ricco di tante occasioni Per stare insieme E divertirsi Grazie ad un'offerta Variegata E di qualità Il 2 e il 3 agosto Le iniziative dell'Associazione Ape Il 4, 5 e 6 La festa della Madonna della Neve Poi il 7 Nella villa comunale Con l'Holy Color Party L'8, il 9 e il 10 San Martino in Feste La Sagra dei Cavatelli In piazza Plebiscito Il 10 agosto In piazza Falcone Il White Party By Ortega Summer Disco and Drink Il 12 e 13 84030 Beer Fest Nella villa comunale Il 16 La festa country In località Molinello Dove il 20 Ci sarà la serata sanzese Con l'ASD Cervati Ranch Il 25 e 26 Con Dammello Con i ragazzi Della TAP In piazza Cavour Tantissime le iniziative All'insegna Della cultura Del divertimento E della tradizione sanzese Per una ricca estate 2023 Nel suggestivo borgo Ai piedi del Cervati E ora la musica I The Occasional Suoneranno All'Overgem International More Than Reggae Festival In Slovenia Nel prossimo mese di agosto Sono stati infatti Selezionati Tra i 16 finalisti Per esibirsi All'importante festival Di musica reggae E ska Appuntamento musicale Importante Per i The Occasionals La band Guidata dal cantante Domenico Petrilli Originario di Atena Lucana Nel prossimo mese di agosto Sarà infatti Tra i protagonisti Dell'Overgem International More Than Reggae Festival In programma in Slovenia L'annuncio è stato dato Dalla stessa band Che si è formata a Siena Nel 2011 E conta tre componenti Originari del Vallo di Diano E ufficiale Scrivono i The Occasionals Dal 16 al 20 agosto Saremo a Tolmin In Slovenia Per suonare sul palco Dell'Overgem International More Than Reggae Festival Tra i dieci festival Di musica reggae Dub Rocksteady Ska Più importanti del mondo Un ringraziamento speciale Va a voi Per il supporto Speriamo di non deludervi L'Overgem Racconta Domenico Petrilli È un evento estivo annuale Che si tiene a Tolmin In Slovenia Ed è dedicato Alla musica reggae Dub Rocksteady Ska Folk E rock In generale Quest'anno Gli organizzatori Hanno fatto delle selezioni Una sorta di concorso Per dare la possibilità Per la prima volta A band emergenti Di salire Su uno dei palchi Del festival Noi siamo arrivati Tra i 50 finalisti E tra questi Ne hanno selezionati 16 Che si esibiranno Sul New Vibes Stage Dell'Overgem Festival Tra questi 16 Ci siamo anche noi La cosa bella È che la band Che otterrà Il maggior riscontro Di pubblico Avrà la possibilità Di esibirsi Sul palco principale Nell'edizione 2024 Dell'Overgem Appuntamento Dunque importante Per gli occasionals Che potranno esibirsi Insieme a un gran numero Di star Della scena reggae Internazionale E ad artisti Di spicco Di altri generi In quello Che è riconosciuto Come uno dei festival Più belli d'Europa Era questo Il nostro ultimo Servizio Grazie per l'attenzione Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti